Che cos'è l'Italia? L'Italia è la famiglia, il design, la bellezza, il senso dell'arte e soprattutto il senso della poesia. Noi cosa facciamo in Osteria Francescana? Ogni giorno noi viviamo la quotidianità ma non ci perdiamo nella quotidianità. Non perdersi nella quotidianità significa fare sognare, cercare di concederci la libertà di vagare, di scoprire l'anima in ogni cosa, in ogni piccolo gesto. Ma per non perdersi nella quotidianità ed essere tranquilli di lavorare in un certo modo abbiamo bisogno di avere attorno a noi costruito un gruppo, una cerchia fedele di persone che vivono il nostro sogno, persone che vivono come viviamo noi in Osteria Francescana la ricerca del meglio, la ricerca della perfezione, la ricerca della poesia in ogni piccolo gesto. E per arrivare a questo noi dobbiamo sentirci sicuri nei nostri gesti e avere attorno a noi appunto dei fornitori, delle persone che sognano insieme a noi. L'OdMix Pro è uno di questi oggetti che ci permettono di lavorare con tranquillità con delle prestazioni straordinarie. E questo è quello che ci proietta verso il futuro. Quando tu hai un controllo di temperatura grado dopo grado, quando tu hai una macchina che lavora e arriva a meno 24 ma anche a più 190. Hai questo tipo di tecnologia a disposizione che una volta non avevano. Questo diventa una poesia per noi perché da una vellutata di mandorla tu puoi trasformarlo in un attimo in un sorbetto di mandorla. Memorizzi tutte le ricette, memorizzi quello che tu hai studiato e ce l'hai tutto dentro una scatola che con un piccolo pulsante ti riporta a quello che sono tutte le tue sperimentazioni mentre lavori. Così come quando lavori a 12.500 giri o a una potenza di 1.500 watt. Tutti lo sappiamo in cucina che quando un oggetto ha questo tipo di prestazioni puoi viaggi sul velluto. È come quando guidi una grande auto e la porti al massimo della velocità. Quando tu hai in mano una grande materia prima, tu cosa fai? La guardi, la studi, la carezzi, capisci da dove viene, capisci che storia ha. Poi a quel punto tu cosa fai? Controlli e sai che tecnica devi usare per non creare un gioco di prestiso e far vedere quanto sei bravo tecnicamente, ma per sublimare la materia prima. E per arrivare a questo devi avere la tecnica che ti permette di arrivare lì e soprattutto fare riferimento alla tecnologia che ti aiuta ad arrivare a quel punto. Quindi l'HotMix Pro è uno di questi oggetti indispensabili in una cucina come lo stereo francescano. Il nostro paese deve ripartire proprio da queste cose. Dal sogno, dalla tecnica, dalla materia prima e dal pensiero. Il pensiero che guida tutto. L'Italia deve ripartire attraverso un gesto poetico, ma anche tecnico, senza abbandonare la natura nell'identità. Il mio territorio è qui, nel mio cervello, nei miei pensieri. E' per questo che do spazio alle aziende che mi aiutano a realizzare questi sogni. L'HotMix Pro è una di queste. L'HotMix Pro è una di queste.